A mercato un pazzerello dove trovi questo e quello e c'è pure un pappagallo con il becco giallo Un tantino picchiatello non sa dire portobello ma cantare vuole il ritornello Portobello! Portobello! TG Zero Radio Capita 19 e 40 Allora abbiamo messo una cosa che la sigla di Portobello a me ricorda la mia infanzia Vittorio tu avevi qualche anno in più però mi ricorda una Rai bellissima Una trasmissione bellissima e però Vittorio ci ricorda anche del grandissimo Enzo Tortora Che forse è possiamo definirlo Vittorio il caso di mala giustizia più grande della storia della nostra Repubblica Anni di carcere, inchieste È il simbolo, una vita distrutta anche fisicamente come poi vedemmo Da un'accusa infondata basata su voci, false testimonianze Non è l'unico caso ed è quello che ha cambiato molto in Italia il rapporto tra la gente e la magistratura Sono nati da allora dei sospetti che il giudice non fosse infallibile Di questi casi però non solo di persone, anzi soprattutto di persone qualunque Qualsiasi che non hanno il riflettore acceso come poteva averlo un grande conduttore della televisione come era Enzo Tortora Si occupa un nostro collega, un giornalista, Alberto Matano che abbiamo qui con noi in studio Ciao Alberto, benvenuto Ciao Alberto Per chi vedesse il Tg1 delle 20, insomma è un volto del Tg1 delle 20 Però da domenica inizia una nuova stagione di una trasmissione che va in onda in prima serata su Rai 3 Che si chiama Io sono innocente Che è proprio una trasmissione che attraverso i racconti e le testimonianze di queste persone Racconta come ci sono persone che sono andate, Alberto, in galera per tanto o poco tempo Con accuse anche infamanti senza aver combinato niente, essendo totalmente innocenti È così, è un film dell'orrore che queste persone raccontano in prima persona E torniamo appunto domenica sera con questa nuova edizione Un'edizione che è un po' cambiata, non a caso parlerai di casi più famosi Immaginate che uno sta a casa sua, sta prendendo un caffè con un'amica Suonano alla porta, suonano i carabinieri Ti dicono che devi seguirli, non si capisce bene perché Soltanto dopo alcune ore capirai cosa è successo E per spiegare che tu non centri niente Passeranno dei giorni, a volte anche dei mesi A volte purtroppo degli anni Ci sono anche dei casi di persone che abbiamo trattato e che tratteremo Che hanno trascorso 15 anni in carcere Fino alla revisione del processo Quindi pensiamo che cosa significa una vita rubata Assolutamente Per una accusa ingiusta E io mi chiedo Alberto, ti saluto, grazie che sei venuto Grazie a voi Scusa, ho una domanda però Da quando è che è diventato possibile portare barbe e baffi al telegiornale? Una volta era proibito Come l'ha sdoganato lui? Ci avete provato? Come è successo? Vedi direttore, tu hai subito colto diciamo nel segno Perché allora Io diciamo c'è stato un direttore del Tg1 Che è il direttore generale Mario Orfeo che saluto Con il quale ho avuto un rapporto insomma di grande collaborazione Ecco, l'unica volta che abbiamo discusso è stata per colpa di questa barba Te la devi tagliare Te la devi tagliare Anche mia madre me lo ripete sempre Alla fine però sono tornato l'anno scorso dalle vacanze Non avevo capito, ho realizzato che era domenica L'unedì non c'era nessun barbiere Quindi non sapevo come fare Piuttosto che andare in onda l'ho tenuta E così è nata questa cosa Hai capito Vittorio? Tu c'hai la barba Alberto c'ha la barba Max Voci c'ha la barba Vedi ormai è sdoganato Io mi sentavo la domanda da Vittorio Zucconi Invece No, te la faccio, te la faccio L'immagine è tutto No, ma Tu hai provato La cosa che mi domando sempre Ci sono questi colossali errori giudiziari Qui in America Ce ne sono Addirittura alcuni sono andati a morire Certo Ecco, ma Che cosa passa per la testa di una persona Che passa mesi, anni in galera Sapendo di essere innocente Perché lui o lei lo sa Di non avere commesso come a te Innanzitutto immaginiamo cosa significa Come fanno? Ritrovarsi in carcere A contatto con persone Che magari hanno commesso reati Per davvero Ergastolani Gente che ha ucciso Altre persone E dichiararsi innocenti Loro dicono In carcere non ti crede nessuno Perché in carcere sono tutti innocenti Oppure sono tutti colpevoli Addirittura Alcuni di loro Fingono di essere colpevoli Perché altrimenti il carcere Potrebbe stritolarli Perché le dinamiche del carcere Sono molto complesse Devo dire che ci sono però delle storie Di grande umanità Perché spesso gli stessi compagni di Cella Aiutano queste persone Li salvano Molti di loro Sull'orlo del baratro Pensavano anche di farla finita I compagni di Cella I detenuti Li hanno salvati Quindi diciamo che è qualcosa di incredibile Resistere Danno delle prove pazzesche Di resistenza Di speranza Allora Dall'altro Alcune di queste Le storie della prima stagione Di Io sono innocente E anche però Anticipazione sulle nuove Tu le hai anche riassunte E sintetizzate Per chi le volesse anche leggere Oltre che vuole dare in televisione Anche in questo libro Che è uscito da qualche giorno Che si intitola Innocenti Edizioni Rai Eri Io l'ho letto E vorrei che giusto Alberto ne tracciassimo un paio Per esempio Mi è molto colpito La storia di questo Stefano Messore Certo Che praticamente era uno Che andava ad aiutare La gente del terremoto Sì è una cosa incredibile Lui si è svegliato la mattina Ha visto cos'era successo Nel centro Italia Lui è stato Nella folgore Un volontario della protezione civile È partito Con la macchina carica Di aiuti Ha fatto la spola Tra Roma e quelle zone Per dieci giorni E poi a un certo punto Hanno puntato il dito Contro di lui Dicendo Questa roba è rubata Tu sei uno sciacallo 50 giorni di carcere 50 giorni Ad Ascoli Arresti domiciliari Una famiglia Messa a dura prova Anche sul piano finanziario Economico Perché il papà È quello che lavora E insomma Quindi fa molta impressione Mi ha colpito la figlia Quando l'ho incontrata Una ragazzina di 14 anni Che mi ha detto Ma una cosa semplice Se avessimo voluto rubare Quegli aiuti Che sono poi i nostri La mia maglietta Li avremmo tenuti a casa Che motivo c'era Di portarli fino ad Amatrice Eppure è successo Ecco Ma alla radice Di tanti di questi Casi giudiziari Che poi La chiamiamo Mala giustizia Ma in realtà È semplicemente Giustizia umana Non credo che sia Niente di specifico E la maggior parte Dei casi Che cos'è È la testimonianza È la testimonianza di qualcuno È il famoso test che dice Sì l'ho visto io Sì lo so io Oppure un errore materiale Oppure un errore materiale E quindi le persone Sono casi che ormai Sono chiusi Ho capito Il punto di vista giudiziario Quindi non è che si va A cercare una ricostruzione Diversa Non c'è ambiguità Loro sono stati riconosciuti Innocenti La trasmissione funziona Con Alberto Che racconta la storia Anche andando nel luogo In cui si è svolta E poi ci sono Non so se anche in questa nuova stagione Delle interviste con queste persone Che poi ti raccontano Tutto quello che hanno vissuto Però cosa c'è in queste persone Alberto Cioè queste persone comunque Perché in fondo è una storia Tutta negativa da loro Sono stati accusati Di essere dei criminali Spesso poi le rettifico Comunque le notizie della soluzione Sono date molto male così Una comunità così Però c'è comunque la voglia Di riscattarsi anche attraverso Questa trasmissione Di raccontare Quello che è successo Assolutamente Loro vogliono Hanno proprio il bisogno Io ho capito questa cosa Quindi affrontiamo Questa nuova edizione Con una responsabilità maggiore Perché abbiamo visto Cosa è successo Dopo la prima edizione Che è successo? Beh loro avevano necessità Di questo riconoscimento pubblico Spesso nessuno Neanche si scusa con loro E quindi la trasmissione Restituisce a loro Quell'onore Che avevano perso Finalmente posso dire la mia E come sono andati Perché pensiamo Cosa accade in un piccolo centro Una persona viene arrestata La notizia è la notizia Del mese Dell'anno Quindi noi abbiamo ridato A queste persone Quella dignità perduta Nella maggior parte dei casi Sono contento di dirlo È una storia di rinascita Perché la vita di queste persone Cambia Cambiano lavoro Accelerano dei processi Sospesi Molti sono sposati Molti hanno avuto dei figli Perché hanno bisogno Anche di recuperare Quello che hanno perso Ci ricordi come viene calcolato Il risarcimento Di uno che è stato Giustamente incarcerato Il risarcimento C'è una doppia Diciamo Un doppio riconoscimento Del risarcimento C'è il risarcimento Per ingiusta detenzione Che è una C'è proprio una Diciamo così Un tariffario Un tabellario Che sono Attorno ai 240 euro Al giorno Per ogni giorno Trascorso in carcere Da innocente E poi c'è un altro risarcimento Che è quello invece Per errore giudiziario Quindi sono due risarcimenti Che viaggiano in parallelo Per esempio Nel caso ultimo Di Ilaria Alpi Di Omar Hassan Il giudice ha Messo insieme Le due cose Quindi Il risarcimento Per ingiusta detenzione Errore giudiziario Ha riconosciuto All'incirca 500 euro Al giorno Spesso invece Chi ha Un riconoscimento Di giusta detenzione Deve poi ancora Fare una battaglia legale Per avere quello Per errore giudiziario Ah non è automatico quindi No Sono diciamo di sì No sono E invece dal punto di vista Io non lo so Perché non mi occupo Di queste cose Alberto C'è in qualche modo Poi un Diciamo Viene fatto comunque Un esame Su cosa non è andato Da parte della magistratura Su cosa non è andato Oppure è tutto lasciato Comunque così No perché Alla fine Sai Eduardo Alla fine la giustizia Insomma Paradossalmente La giustizia Che all'inizio è ingiusta Ritorna giusta Magari attraverso Altri gradi di giudizio Altri gradi di giudizio Revisioni Cassazione Eccetera E quindi a quel punto La vicenda si chiude Diciamo anche che poi Per avere la revisione E per avere poi Il risarcimento Ecco quella è una Lunga battaglia Non è automatico E anche chi ha avuto La revisione Deve poi ancora Affrontare altre prove Per avere il risarcimento Insomma un'idea Molto complicata È complicata Scusa La butto sul Sul personale Il libro Lo leggeremo E vedremo La trasmissione E come ti è venuta L'idea Cioè la tua storia È professionale Scusami non la conosco Cos'eri un cronista Mi sono sempre occupato Di politica Ho fatto prima Molti anni Al giornale radio Occupandomi sempre Di cronaca parlamentare Sono stato giornalista Parlamentare Poi ho seguito Ho seguito Al Tg1 Con la politica Poi sono diventato Anche un conduttore Del telegiornale È stata Daria Bignardi Che non smetterò mai Di ringraziare Nel momento in cui La RAI di Campodallorto Voleva individuare Dei giornalisti Interni RAI A cui affidare Alcuni programmi Come questo A propormi Questa E così Sei partito Con la prima stagione Ed è stato Un viaggio incredibile Una scoperta All'inizio Ho detto Cosa centro io Con i ruoli giudiziari E poi mi sono buttato Dentro queste storie E alla fine Eccoci qua Con una seconda edizione Devo dire Nella quale ho messo Moltissimo Ecco La seconda edizione Mi sembra di aver capito Alberto Che vi occupate Oltre che dei casi Della gente Fra virgolette Normale Anche di casi Di cronaca Faccio il caso Per esempio Di Patrick Lumumba Che era stato In un primo momento Accusato per il diritto Di Meredith Kercher Ci sono anche questi casi Ci sono questi casi Più conosciuti Perché il primo Che tratteremo domenica È quello di Enzo Tortora Avremo Gaia Tortora In studio Che parlerà Una delle poche volte In cui racconta Di quello che ha vissuto E di suo papà E di come diceva Giustamente prima Il direttore La vita di quest'uomo Nel fisico E poi in quella Che è stata Anche la sua carriera È stata messa A dura prova Da questa ingiusta Detenzione Da questa accusa Incredibile E quindi Da Tortora Parleremo poi di Lumumba Parleremo di Filippo Lamantia Il famoso cuoco Eoste Che anche lui Nella Palermo Della guerra di mafia È stato in carcere Per un'accusa Legata all'omicidio Cassara Non c'entrava nulla Parleremo Ancora poi Di Vito Gamberale Con Chiara Sua figlia Anche lei racconterà La sua vicenda Personale Di adolescente Con il papà Arrestato E poi prosciolto Ma comunque Immaginiamo Perché poi Non pensiamo mai Alle famiglie A cosa accade Ai figli A chi poi Deve uscire di casa Con un padre O una madre Una cosa che aveva colpito In una puntata Che avevo visto Della prima stagione Alberto Di Io sono innocente Era quel signore Che era stato accusato Mi sembra Dalla guardia di finanza Di evasione fiscale O una piccola azienda Così Anche il fatto Vittorio Che alcune volte Per quelle che sono Le procedure giudiziarie Passano delle intere settimane Perché tu Non sai proprio niente Non sai nemmeno Di cosa sei accusato Io questa cosa La trovo di un kafkiano Mostruoso È così I primi forze Sono i peggiori Il kafka non c'era mica Inventato tutto Lo spunto era reale Ma io ho un'altra domanda Per te I giudici Gli autori Di queste sentenze Sbagliate Chiamiamole pure così Hanno subito Delle conseguenze Nella carriera Perché è vero Che uno che va In galera innocente Ci sta male Ma anche una persona Un giudice Che manda uno in galera Per quindici anni E poi si rende conto Di avere mandato Ingiustamente Un innocente Sul piano morale O su quello pratico Ha pagato delle conseguenze Non mi pare No Tra l'altro Loro lamentano Anche l'assenza di scuse Perché Cosa succede Quando una persona Viene messa in carcere È facilissimo finire in carcere È difficilissimo Uscire dal carcere Quando si esce Poi non c'è Addirittura Loro raccontano Che escono dal carcere E non possono fare Non hanno neanche spesso Gli strumenti per telefonare a casa Non possono comunicare ai familiari Sono tutte cose Che noi non immaginiamo Tu vieni scarcerato Sei fuori dal carcere Col tuo sacco di plastica È finita lì Devono magari fermare qualcuno Per avere Insomma Ecco Quindi non c'è questo elemento Non c'è A parte il risarcimento È una macchina Che ti prende Ti digerisce Ti butta via Un'ultima domanda Tu hai anche fatto Molte visite In diverse carceri italiane Perché ti sei documentato Si andrà da vedere così Brevemente So che è un argomento enorme Che hai trovato Delle condizioni Di che tipo Io devo dire Che ho visto Beh entrare in un carcere È qualcosa che lascia senza fiato Perché appunto Anche lì La prima cosa che devi fare È lasciare il tuo telefono Lasciare tutto Non puoi portare nulla Si chiudono alle tue spalle Questi cancelli Queste chiavi Che è una cosa continua Quindi per fare qualsiasi cosa Anche questo mi colpisce molto Devi fare una domandina Non puoi avere niente In automatico Io ho visitato Delle realtà Devo dire Molto positive Come Padova Dove i detenuti Possono studiare Alcuni sono laureati Fanno un giornale Ci sono quindi Delle situazioni In cui il carcere Torna a essere Quello che la Costituzione prevede Quindi Un elemento di rieducazione Spesso però non è così Perché le storie Che noi raccontiamo Sono storie di sovraffollamento Di condizioni Abbastanza Di degrado E di disagio Insomma come tutte le cose In Italia C'è di tutto Diciamo così In chiusura Prima di salutarti No ho un'osservazione Sulla quale sono convinto Lui condividerà La mia opinione Quando io sento Sbandierare come slogan La certezza della pena La certezza della pena Io rispondo sempre Attenzione Prima ci vuole La certezza della colpa Però Perché la certezza della pena E questa purtroppo Non c'è molte volte Quindi La certezza della pena È uno slogan Molte volte E soprattutto Noi secondo me Da giornalisti Dovremmo recuperare Il dubbio Perché la storia recente Di questo paese Ci ha portato A essere molto L'assassino Esatto L'assassino Piuttosto che il politico Lo stupratore Anche un avviso di garanzia La testimonianza Che ho voluto fare E ho voluto raccontare Mettendoci un po' Di più di me Grazie Alberto Matano Grazie a voi Per essere stato con noi Grazie Alberto E buonasera a tutti Come si dice alla fine Del telegiornale No non si dice così Buonasera a tutti Grazie per aver scelto il TG1 E arrivederci Grazie a tutti Buonasera a tutti Grazie per aver seguito il TG0 Buonasera a tutti voi Arrivederci Beh ci siamo Ci siamo Torniamo tra pochissimo Quale onore Grazie